benissimo rieccoci qua ragazzi allora diviso i pacchetti altrimenti mi sarei imbrogliato apriamo subito questo allora abbiamo Koffing, Meo, Oddish, Psyduck, Slowpoke Voltorb, Squirtle Energia Erco Baleno Olografica benissimo Dark Charmeleon Magikarp e Dark Rapidash perfetto ok vediamo il secondo abbiamo Ekansabra, Charmander, Psyduck, Slowpoke, Mashup, Monkey Energia Arcobaleno rara la vendetta del Professor Oc energia, pozione magica addestramento, raccolta notturna della spazzatura, perfetto quindi mettiamo questa qua questa è la rara e queste Pokémon ecco qua avriamo quest'altro qui che è il terzo dai un bel Dark Charizard o anche un Dark alla Kazam o Blastoise andrebbe bene quindi allora Dark Raticate Slowpoke Squirtle Voltorb Dormi Diglett Drowsey Dark Hypno Raro Magikarp Rapidash Dark Rapidash e Dark Dragonair benissimo ecco qua allora Koffing Meo Oddish Psyduck Slowpoke Voltorb Squirtle Dark alla Kazam vai ragazzi grande bellissima guardiamola più da vicino mettiamo a fuoco se ci riusciamo ecco qua che grande ragazzi Dark Cadabra Dark Vaporeon e Dark Charmeleon ecco qua questa mettiamo qua e questa qua dai dai che stanno iniziando ad uscire le oro allora Squirtle Dormi Magnemite Dretini Drowsey Ponita Rattata Dark Wising Olo o no? no rara Dark Cadabra Alla Mania del Cavo e Dark Machoc ecco qua quest'altro pacchetto allora Psyduck Charmander Machop Slowpoke Dark Raticate Manky Voltorb Dark Magneton che è la rara sfida energia recupera totale Dark Gloom ok dai dai allora Psyduck Day Ekans Abra Slowpoke Machop Charmander Voltorb Dark Vile Plume grande bellissima ragazzi anche questa un altro oro grande Dark Flareon la vendetta del professor Rocco l'impostore Dark Gloom ecco qua apriamo quest'altro allora Voltorb Squirtle Pony Tarattata Eevee Grimer Dormi attacco a sorpresa del Team Rocket che è la rara Dark Rapidash Magikarp no Magikarp esatto Dark Electrod bene ci sono rimasti altri due pacchetti di questo video poi proseguiamo con i prossimi due allora Mankey Voltorb Diglett Dormi Squirtle Dartini Magnemat Dark Raishul la fuori serie un altro che già ci è uscito prima dei pacchetti poi Dark Goldack Energia e Dark Prime Benissimo avremo l'ultimo di questo video vediamo che abbiamo qui qualche oro lo scopriamo subito allora Zub Attivi Grimer Rodish Psyda Kekan Sabra Dark Dugtrio che è la rara Dark Dragoner Dark Charmille e la maniera del capo bene ragazzi abbiamo finito con quest'altro video di altri 10 pacchetti quindi in totale abbiamo aperto i 20 del box ora passiamo ai prossimi 10 e poi l'ultimo video con gli ultimi 6 a tra poco